meta twitter amazon 5g e cripto valute sta avvenendo giù tutto amici di come non che short ben ritrovati con il tecno ribelle transumanisti e tecno ottimisti ascoltate bene il boom di investimenti per covid è stato controproducente e così ad effetto domino il castello di sabbia sta inesorabilmente venendo giù sì perché tra conti in rosso licenziamenti di massa richieste di rateizzazioni miliardari allo stato italiano crack e bancarotta una dopo l'altra telco e big tech della silicon valley stanno annaspando anzi stanno letteralmente affossando sotto i loro stessi colpi zuckerberg ha gli utili dimezzati e prefigura il tonfo di meta rilevata per 44 miliardi di dollari twitter musk ne ipotizza già il fallimento amazon ha bloccato le pensioni acqua alla gola team pretendeva di posticipare una rate da 1,7 miliardi di euro poi pagata al mal volentieri e 100.000 creditori al mondo sono rimasti col cerino in mano dalle bahamas fallita alla finanza digitali di ftx insomma il migliore dei mondi possibili incardinato dagli architetti del virtuale su 5g social visore ottico palmare atipico algoritmi e criptovalute assume sempre più le sembianze di un grande blef un over promise mondiale col botto finale da paura sentite qua metaverso 700 miliardi di dollari di valore di mercato bruciati in un solo anno per la richezza di appena 38 utenti attivi in 24 ore i licenziamenti di meta sono colpa dell'ambizione smodata di zuckerberg titola wired commentando l'invio a casa di un dipendente su otto italiani compresi roba da 11.000 licenziamenti tra facebook instagram e whatsapp e se sparta piange atene di certo non ride così in un caos di licenziamenti consumati via mail oltre i top manager della dirigenza altri 3.700 posti di lavoro vanno in malora nella twitter di elon musk a un passo dal fallimento abdicato persino lo smart working per 40 ore settimanale in presenza twitter rischia la banca rotta riporta rai news il fallimento potrebbe essere una possibilità se la compagnia non inizia a generare più denaro e minor denaro in effetti lo introitano anche le compagnie telefoniche se il mercato smartphone perde quasi il 10 per centi all'anno in italia tra il 2016 e il 2020 i ricavi delle telco sono crollati ad un tasso medio ponderato del 2,7 per cento con la rete mobile in maggiore affanno meno 5,2 per cento rispetto alla rete fissa 0,3 per cento in meno così per saldare il 73 per cento contrattualizzato con lo stato nella legge di bilancio 2018 per l'acquisto all'asta dei primi tre lotti di radiofrequenza del 5g team vodafone winter e iliad hanno fatto di tutto per ammorbidire la rata da 4,8 dei 6,55 miliardi di euro fissata al 30 settembre 2022 gli operatori prima del saldo scriveva il sole 24 ore incrociano le dita nella speranza che possa arrivare una rimodulazione di quello che altrimenti sarebbe un salasso dita incrociate inutilmente perché il salasso a bocca storta è stato saldato e alla sola team costato 1,7 miliardi di euro rovinosamente capitalizzati nell'indebitamento finanziario netto after lease pari a 20,1 miliardi di euro ecco perché astel ramo telecomunicazione di confindustria con insistenza pretende il lanzamento dei limiti di soglia di radiazione elettromagnetica nella media giornaliera da 6 a 61 volte per metro perché già saturo della pre 5g selva di antenne il fondo ambientale di città e piccoli centri se non schizzassero all'inverosimile dei più 110 volte i limiti di elettrosmog l'industria si troverebbe costretta a disseminare decine di migliaia di unità di nuova infrastruttura tecnologica 5g per ulteriore sborso quantificato in altri 4 miliardi di euro un rischio grosso come le perdite di 5 miliardi di dollari per alexa intelligenza artificiale di jeff bezos e amazon oppure il botto dei bitcoin i ftx una delle principali piattaforme per lo scambio di valute digitali al mondo l'exchange di criptovalute stimata ad inizio anno per 32 miliardi di dollari finiti in fumo nell'istanza di fallimento per miliardi spariti nel nulla come sam beckham freehead spacciato adesso per la ditante la casa bianca ha fatto sapere di stare monitorando il tracollo di ftx e ritiene che la sua banca rotta confermi la necessità di regole più stringenti per il settore sì ma c'è pure chi sospetta un enorme giro di riciclaggio di denaro per finanziare illegalmente l'ultima campagna elettorale di metà mandato usa e non ci sarebbe da amigliavigliarsi più di tanto se si pensa che ericsson leader incontrastato in europa per i brevetti sul 5g e fornitore in italia di rete per team per fare affari nei territori di guerra ferì per finanziare italia gola dell'isis chapeau per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimanda stop 5g salute ambiente geopolitica privacy transumanesimo controllo sociale libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale terra nuova edizioni oppure sul sito di aggiornamento naturale www.asisana.com appuntamento alla prossima puntata del tecno ribelle e un caro saluto a tutti da maurizio martucci puntata del tecno ribelle e un caro saluto a tutti da maurizio martucci puntata del tecno ribelle e un caro saluto a tutti da maurizio martucci